Onorevole D'Alema, grazie mille ancora per il suo tempo. Cominciamo con questa intervista. Vista la sua esperienza come ministro degli esteri italiano, lei appunto conoscerà molto bene il mondo diplomatico. Come definirebbe lei personalmente? Come definirebbe lei personalmente? La conoscenza della storia, della letteratura, dell'arte. E questo sicuramente aiuta a superare barriere, a vincere quei rischi che pure ci sono di chiusure nazionalistiche, persino nella civilissima Europa, diciamo, e a promuovere quel mutual understanding, quella comprensione reciproca, diciamo, tra i popoli, che è la condizione fondamentale per il mantenimento della pace e della collaborazione internazionale. Ritiene che l'Italia utilizzi al massimo il proprio potenziale in termini di soft power. In che modo pensa che il Paese potrebbe migliorare il proprio ruolo all'interno della comunità internazionale, appunto, utilizzando questo strumento? L'Italia è un patrimonio culturale straordinario. Purtroppo, penso anche alla mia esperienza di Ministro degli Esteri, le ristrettezze del bilancio pubblico non ci permettono di investire sulla cultura italiana nel mondo ciò che un Paese come il nostro dovrebbe investire. Quindi, qualche volta si sopperisce con la fantasia, la capacità di iniziativa, di singoli direttori, di istituti di cultura, di ambasciatori particolarmente intraprendenti o capaci anche di raccogliere sponsorizzazioni private. Insomma, perché è evidente che quello che l'Italia potrebbe fare in termini, pensi soltanto, diciamo, di organizzazione di mostre, di eventi culturali, musicali, insomma, il potenziale del nostro Paese è un potenziale straordinario. Si concentra in Italia, credo, circa un terzo del patrimonio culturale dell'umanità, non dell'umanità intera. Quindi è evidente che questo potenziale è talmente grande che noi fatichiamo a farlo esprimere pienamente. Che ruolo ha avuto, a suo avviso, la diplomazia culturale nel determinare gli eventi che hanno poi portato alla caduta del muro e appunto della cortina di ferro in Europa? Ma sicuramente, diciamo, la circolazione delle idee ha avuto un grande ruolo, perché non c'è dubbio che la forza d'attrazione della democrazia, che, insomma, ovviamente il fascino della democrazia è riuscito a attraversare i muri, diciamo, a attraversare le cortine di ferro ed è stato qualcosa che ha indubbiamente alimentato un movimento popolare che dal basso ha fatto crollare le strutture di un regime che erano già strutture corrose, perché, insomma, indebolite dalla crisi economica, dalla stagnazione, insomma. Però non c'è dubbio che direi che c'è stata una contaminazione culturale, e cioè la cultura democratica è filtrata attraverso le barriere e ha contribuito a creare un'opinione pubblica favorevole al cambiamento, favorevole alla libertà, favorevole alla libertà di espressione, alla libertà politica, alla libertà religiosa. E quindi sotto questo profilo non c'è dubbio che la circolazione delle idee è un elemento potentissimo di cambiamento, di avvicinamento tra i popoli. Pensiamo oggi, io vengo dalla Cina, no? Una delle cose più impressionanti in Cina è il fatto che non tu utilizzi il computer, l'iPad, l'iPhone, vai alla ricerca delle cose, ma è evidente che Google non funziona. Cioè è evidente, è talmente forte la preoccupazione del regime, diciamo, del diffondersi di idee con la libertà estrema che la rete consente, e che hanno attivato delle tecnologie per ostacolare il funzionamento di questi strumenti. Quindi è abbastanza impressionante. Avevo letto da qualche parte che c'era questo, ma constatarlo di persona, diciamo, il fatto che non si riusciva, si bloccava, non si riusciva ad andare sulla rete, diciamo. Questo è abbastanza impressionante. E questo ci dimostra la potenza della comunicazione e quindi anche del messaggio culturale, proprio per il fatto che esso è temuto da chi, avendo nelle sue mani il potere, essendo questo potere un potere gestito in modo ancora autoritario, cerca di mettere delle barriere proprio per evitare il rischio di una contaminazione. Naturalmente queste barriere funzionano solo in parte, perché poi in Cina, sì, sulla rete si esercita un controllo, ma basta una televisione satellitare per vedere le immagini che arrivano da ogni parte del mondo. La forza della cultura è una forza inarrestabile sostanzialmente. Per concludere, quanto pensa sia importante al giorno d'oggi promuovere la diplomazia culturale in generale? Beh, insomma, io per un paese come l'Italia è un aspetto fondamentale della nostra proiezione internazionale. E penso che a questo si sta dedicando sempre più una maggiore attenzione. L'influenza culturale italiana è un'influenza che esiste, anche se spesso non è governata dall'Italia. È la forza di una tradizione che arriva comunque. In questo, per esempio, i francesi sono molto bravi. Investono molte risorse da questo punto di vista, ma anche noi abbiamo una grande potenzialità. Io penso ad una diplomazia culturale che non sia soltanto una diplomazia dei governi, ma che deve coinvolgere, per esempio, in un paese come l'Italia. È molto importante che ci sia una diplomazia delle città. Città d'arte, città della cultura, che possono fare moltissimo da questo punto di vista. È una diplomazia della società civile, delle organizzazioni, delle università. Dobbiamo cercare di promuovere una molteplicità di strumenti, quindi non soltanto quelli statali, governativi, diciamo, ma tutta una capacità di proiezione della nostra cultura e di dialogo della nostra cultura nel mondo si può sviluppare anche attraverso tanti altri canali, ripeto, istituzioni locali, la società civile, la scuola, l'università, che sono canali assai potenti, qualche volta anche più efficaci che non quelli statali delle nostre ambasciate. Bene, l'intervista è finita. Grazie ancora per il suo tempo. Grazie a lei. Grazie.